con due respiri finiamo il cerchio ancora tre le gambe rimangono dritte è solo una flessione laterale massima distendo la gamba braccia larghe e richiudi mantieni bene questa flessione la sfidi due volte cercate di non cambiare la forma del corpo contrai e torno dall'altra parte diventa avanti torni di là e centro